Ecco, la formula è proprio quella di una cena spettacolo che insomma sicuramente appunto mentre si gode della buona tavola toscana si ascolta anche la buona musica. Sì, la città della musica questa volta insieme all'associazione del campo sportivo di Piero al Toppo sabato 24 giugno alle ore 20 organizza questa cena che poi il ricavato sarà donato al Calcit di Arezzo. Potete prenotare, poi vedrete magari i numeri in sovrimpressione, sabato alle ore 20, sabato 24 come diciamo sempre noi spettacolo e cena e beneficenza. Credo che siano i tre momenti importanti sempre per la città della musica, per la musica, per il Calcit e per la nostra Arezzo. Una formula alla quale gli aretini rispondono non solo ovviamente per contribuire alle casse del Calcit ma anche perché ecco si passa una bella sera. Sì, la serata è sicuramente bella perché la proposta musicale è quella degli anni 60-70 con 5 gruppi ormai affiatati che noi abbiamo un trascorso già di queste serate molto partecipate e quindi per noi è grande soddisfazione e insomma gli aretini rispondono sempre molto bene. Ci si sposta questa volta in Val di Chiana, il ricavato sarà sempre a favore del Calcit o questa grande realtà del nostro territorio. Sì, dal Basso Casentino alla Val di Chiana continua questa collaborazione con l'Associazione dei musicisti degli anni 60-70 di Arezzo. Per noi sarà diciamo un po' forse l'iniziativa che chiuderà la nostra attività primavera-estate e poi ricominceremo a settembre. Anche questa sarà all'aperto perciò una bella serata con della musica dal vivo, una scena che sarà sicuramente ottima e tutto quello che ricaveremo lo destineremo al servizio di assistenza amiciare e servizio a scudo. Si chiude un anno Presidente dove vi siete riappropriati insomma dei vostri spazi conviviali ma soprattutto per raccogliere fondi perché quelli precedenti erano stati piuttosto duri. Sì, in pratica abbiamo un po' ripreso un po' tutte le nostre iniziative dai mercatini, domenica scorsa anche Quarata ha ripreso anche se in forma piccola però è sempre importante essere presente anche in queste realtà più piccole anche per alla fine anche per vivacizzare un po' i paesi che però se no si spengono se non facciamo qualche cosa. La musica naturalmente, dal vivo naturalmente e le più belle canzoni di anni 60 e 70. Questa volta la Città della Musica ha scelto queste band per Piero al Toppo per la serata del 24 giugno. Allora sono gli Acustica, dieci anni dopo, la Dia Band, gli Artornados e Amnesia, sono cinque gruppi che abbiamo noi nella nostra associazione. C'è un nome che insomma suscita un po' la mia curiosità, Artornados, è nuovo? Artornado è nuovo, però c'è i personaggi che stanno suonando, il batterista Elbeoni, che ho conosciuto da retro, ma tutta gente che ha suonato da tanti anni. Ecco, insomma abbiamo rivisto anche negli schermi Rai, Mediaset, tante volte ripercorrere questi anni con le voci, insomma il nostro aretino Pupo, ma non solo lui, Shell Shapiro, insomma noi eravamo stati precursori di tutto quello. Noi siamo stati quelli che abbiamo vissuto questo bel periodo, è veramente stato un bel periodo, e ora lo proponevamo a giovani, perché semmai quelli che non hanno mai ascoltato queste canzoni, ma ce ne sono pochi perché gli anni 60 e 80 sono le più belle canzoni che sono venute fuori. Grazie. Grazie.